Ciao amici, benvenuti in questa nuova video a te prima della redazione, scritti diretta dall'Ouomo Misterioso, da Lady Blue e dal vostro amico Bomber. Oggi vi porto un po' di notizie, comunque interessanti, che magari alcuni titoli vi potranno anche piacere. Iniziamo subito con Street Fighter VI, dove Capcom ha pubblicato un nuovo video, incentrato su Lily e Honda. Ovviamente il gioco uscirà il 2 giugno per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e SPC. Ovviamente porteremo, appena riusciamo a prenderlo, la recensione unboxing con Game Start. Ci stiamo lavorando comunque. Il nuovo thriller, come vi ho detto prima, è incentrato su Lily e ovviamente il veterano campioni di sumo Honda. Giustamente fanno vedere un po' lo stile di combattimento dei due personaggi. Ad esempio Lily lotta impugnando due bastoni, possiede anche delle capacità veramente tecniche e molto veloci e devastanti, in grado di creare combo meramente potenti. E Honda ovviamente conta su prese, sulla forza diciamo pesante e sul suo corpo bello massiccio. Ovviamente è un lottatore di sumo, quindi a livello fisico è molto più grosso, quindi fa anche ben po' di danni. Insomma due personaggi che andranno a completare il roster durante ovviamente il gioco completo quando uscirà. Adesso direi da passare al prossimo thriller, ci vediamo tra poco. Horizon 4B West l'avevamo già recensito su questo canale e ne avevamo anche parlato bene, non stati alcuni piccoli baghettini così che sono stati risolti. Comunque è un'ottima esclusiva PlayStation 4 e PlayStation 5. A distanza di tempo Sony Guerrilla Games con un thriller hanno annunciato la sua espansione ufficiale chiamata Barnic Shores, che sarà disponibile il 19 aprile 2023 come esclusiva PlayStation 4 e PlayStation 5. Se andate sul sito PlayStation Store o sulla PlayStation 4 o sulla PlayStation 5 tramite PSN, troverete già il pre-order aperto che se caso lo prenotate l'espansione vi saranno anche rilasciate dei contenuti esclusivi, dei contenuti bonus, che includono praticamente delle skin e alcune ricompense extra. Ovviamente serviranno per l'espansione Barnic Shores. Per accedere all'espansione Barnic Shores, detta da Guerrilla Games, dovrete praticamente completare la missione principale singolarità. Una volta completata verrà fuori un piccolo messaggio che a noi riceverà praticamente un messaggio per quanto riguarda la possibilità di accedere all'espansione Barnic Shores. Bene raga, adesso direi da passare al prossimo thriller, ci vediamo tra poco. Sì, lo so che ne avevamo già parlato nell'altro video a te prima, scusate se ve lo metto ancora, ma è uscita una nuova notizia che ha fatto un po' scalpore. Redfall, Microsoft e Bethesda e Arkham Austin Studio, gli stessi creatori della serie di Dishonored e anche di Prey e anche di Deadloop, hanno annunciato che stanno lavorando per togliere l'obbligo online di Redfall, ovvero la possibilità di giocare in singolo senza una connessione obbligatoria, perché? Perché semplice fatto di un gioco è nato come sparatutto cooperativo online, si può giocare anche da soli, ma con internet obbligatorio e molti fan questa cosa non è andata giù, tipo me. Adesso Arkham Austin, o meglio ancora il capo, il game director Harvey Smith, scusate, ha rilasciato su Eurogamer un'intervista dove praticamente ha detto che gli sviluppatori sono consapevoli che in alcuni paesi c'è una connessione molto bassa, non stabile, e la possibilità che questa connessione salti potrebbe rovinare l'esperienza di gioco, cioè il giocatore ovviamente avendo una connessione sempre obbligatoria per giocare a questo gioco sia in singolo o in cooperativa, online se in caso salta la connessione il giocatore non può comunque andare avanti con l'avventura, anche in singolo. Quindi diciamo che per magari, non so, tipo per fare un esempio, succede un problema per una settimana, una settimana il giocatore non può giocare. Quindi stanno studiando un sistema, quindi andranno a modificare, si spera, il fatto dell'obbligo online e potrà essere dopo giocato senza problemi. Ovviamente lo sviluppatore non è che ha assicurato al 100%, devono lavorare su i salvataggi, su alcune funzioni dell'interfaccia per far sì che l'avventura può essere giocabile senza la connessione obbligatoria. Speriamo in bene, speriamo in bene perché sarebbe un'ottima notizia per i giocatori che magari hanno una connessione debole e che magari non è stabile. Direi da passare al prossimo thriller. Signori e signori, dopo a distanza di tempo dal suo annuncio, finalmente ecco un primo videogameplay, un piccolo assaggino, di Warhammer 40.000 Bolt Gun. Il nuovo thriller è stato presentato da IGN con un videogameplay commentato ovviamente da IGN stessa e dagli sviluppatori. Prodotto da Fox 70 Animate e sviluppato da Our Watch Digital, FPS vecchia scuola, old school, tra virgolette, lingua in inglese, quindi niente sottotitoli in italiano, è previsto per il 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, S, PC e Nintendo Switch. Ovviamente il nuovo videogameplay ci fa un po' diciamo vedere alcune parti del gioco. Possiamo capire che il nostro protagonista ovviamente è un Space Marine alle prese con le legioni del caos e potremo usare diversi tipi di armi che andrà ovviamente a richiede il nostro arsenale, dalla mitragliatrice al fucile a plasma alla classica spada catena dove potremo ovviamente fare a pezzi i nemici. Come potete vedere lo stile grafico è volutamente retro che gli stessi sviluppatori hanno detto che hanno voluto renderlo retro per ispirarsi ai grandi classici del genere tipo Doom, Quake, Wolfenstein e via dicendo. E per il momento purtroppo, anche se il meme attira molto, non c'è ancora una data di uscita, c'è solo un generico 2023. Ovviamente quando uscirà che sia in formato digitale in versione fisica, noi comunque porteremo la recensione unboxing con GameStart. Attendiamo nuove info per quanto riguarda Onehammer. Direi da passare al prossimo thriller, ci vediamo tra poco. Oh che bello! Ecco a voi un gioco di guida Lego 2K Drive, il Racer Lego, chiamato così anche dagli sviluppatori. Signori, è prodotto da 2K Games, sviluppo interno, genere corso Open World, lingua in inglese e mi pare anche in italiano. Uscirà il 19 maggio 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, S, PC e ovviamente anche per Nintendo Switch. Il thriller pubblicato da 2K Games, con qualche immagine pubblicata anche sulla pagina di Twitter, ci fa conoscere un po' diciamo le meccaniche di gioco. Come bene sappiamo, il gioco incorderà modalità multiplayer competitive e cooperative per un massimo di 6 partecipati e anche una modalità a schermo condiviso, la classica split screen. Praticamente potete giocare in due con lo schermo condiviso sulla stessa console. Potete anche personalizzare le auto usando ovviamente i mattuccini Lego, quindi bei maniaci diamoci dentro. E ovviamente lo stile grafico, come potete vedere, sembra quasi in self-sharing. Meramente interessante come gioco, l'abbiamo messo in lista per portarvi la recensione unboxing, ovviamente appena lo avremo tra le mani. Giustamente può essere a maggio, ma può essere magari in settembre, appena abbiamo tra le mani il gioco. Meramente interessante, meramente da tenere d'occhio, ci è piaciuto moltissimo. Ecco signori, un gioco dallo sviluppo eterno, che quando uscirà, se in caso mai sarò ancora vivo, potrò portare la recensione e unboxing di questa esclusiva Microsoft e di Ninja Theory. Stiamo parlando di Senwans Saga Hellblade 2, esclusiva Xbox Series X e SPC, che ancora non ha una data di uscita. Continuano a essere pubblicati piccoli teaser, thriller, ma del gioco per il momento non si è visto ben poco o nulla. Comunque, il teaser thriller ci fa vedere che gli sviluppatori Ninja Theory stanno utilizzando il motore grafico Ariane NG5. E diciamola la verità, forse questa attesa di sviluppo sarà ripagata, perché meramente gli sviluppatori si stanno impegnando tantissimo, basta vedere ovviamente l'espressione facciale della protagonista. Insomma, ragazzi, io forse dirò una cosa un po' storpiata, ma penso che questa volta Microsoft potrà avere il suo God of War per Xbox. Forse, eh? Non vorrei magari lanciare troppo la frecciata, però staremo a vedere, sperando in una data di uscita al più presto. Comunque, complimenti. Ho un gioco che attendo con ansia, The Lord of the Fallen. Perché? Perché è il rivale di Elder Ring. Non lo dico io, l'ha detto Sea Games e Ex-Works, produttore e sviluppatore. Action RPG, Souls-like, lingua in italiano, in inglese, in uscita per il 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X, S e PC. Il nuovo filmato, ovviamente, è stato presentato durante lo State of the Uriel. Stavo dicendo lo State of the Play, ma per abitudine. E il State of the Uriel. Ovviamente il gioco, perché è stato presentato nello State of Uriel. Perché? Per il semplice fatto che è sviluppato col motore grafico Aria Engine 5. Il filmato in questione è incentrato sulla personalizzazione dei personaggi, sull'illuminazione dell'abitazione e delle corazze. Insomma, da quello che fanno vedere gli sviluppatori stanno lavorando tantissimo per quanto riguarda l'aspetto tecnico e il gameplay, che potrebbe forse rivaleggiare contro i Souls di From Software. Riuscirà nell'impresa? Chissà, magari. Comunque noi, per valutare appieno il gioco, ovviamente quando uscirà, porteremo la recensione e unboxing. E dopo potremo dire se Sea Games è riuscita in questa colossale impresa contro From Software. C'è tutte le carte in tavola, comunque. Vedremo, vedremo. Signori, ecco a voi un nuovo thriller gameplay di Lease of P, un altro action RPG source like sviluppato da Neovitz. Team cinese, che ovviamente il gioco sarà rilasciato in agosto 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X, S e PC, lingua in inglese, cinese, giapponese e italiano. Il nuovo video è stato presentato durante lo State of Argal. Perché? Perché ovviamente è stato sviluppato col motore grafico Argal Engine. Giustamente il gameplay fa vedere, diciamo un po', le meccaniche di gioco che, detto degli sviluppatori, si sono ispirati a Bloodborne. Chissà, magari anche questo gioco potrebbe uscire un bel action RPG con una trama e un gameplay interessante. Magari potrebbe ritagliarsi una buona fetta di appassionati del genere. Noi ovviamente l'abbiamo messo in lista e quando l'avremo tra le nostre mani, porteremo la recessione unboxing e lì potremo verificare se tale premesse sono state mantenute per rilasciare un buon source like. Vediamo, vediamo. Anche questo è interessante. Come ultimo thriller di questa videoteprima, ecco a voi Project M, un action interessante sviluppato e prodotto da NSI Soft. Generazione, lingua in inglese, cinese, giapponese e forse anche in italiano. Previsto per il 2023 o 2024 per PlayStation 5, Xbox Series X, S e PC. Purtroppo si sa ben poco il titolo per la GM, ovviamente un titolo provvisorio. È stato presentato durante lo State of Unreal, perché è il gioco sviluppato da NSI Soft e sviluppato con l'Area Engine 5. Fa vedere piccoli spezzettoni di, come si potrebbe dire, di gameplay e alcune scene ovviamente create come scopo introduttivo. Possiamo vedere ovviamente una grafica poligonale davvero impressionante e fotorealistica, un gameplay che sembrerebbe bello fluido, ma purtroppo non si sa nient'altro, né sulla trama, né dove si svolgerà, non si sa niente. Sono state rilasciate poche informazioni. Speriamo di avere qualcosa in più nei prossimi giorni, a meno qualche piccolo dettaglio in più sulla trama. Insomma, il gioco, nonostante tutto la sua breve presentazione, ci ha comunque attirato che, se in caso dovesse uscire realmente, porteremo la recessione unboxing con GameStarter. Per il momento è un punto di domanda. Vedremo un po' in futuro cosa verrà rilasciato come info per questo Project M e poi speriamo anche un titolo, diciamo, vero e proprio. Questo qua per il momento è un titolo provvisorio, provvisorio, detto degli sviluppatori. Non male, non male. Bene raga, questa è la fine della videotiprima. Spero che vi sia piaciuta anche voi nei commenti. Fatevi sapere un po' le vostre opinioni, quale titolo vi ha catturato di più, l'attenzione e quale comprerete. E noi ci vediamo per i prossimi video. Un saluto da L'Oro Misterioso, da Lady Blue e dal vostro amico Bombe. Link in descrizione, come sempre, trovate tutte le info della redazione. Facebook, Ask, quello che volete, insomma. Ciao a tutti, bye bye.